Ammè, il posto è bello. Eh? Speriamo che questo è come avete chiesto. Speriamo. Chi l'ha tirato là? Ci è l'euro. Ma ci ti chiede pure i tuoi. Hai lasciato in due salotti. Ti chiamate. Non ci stai insieme. C'è roba di noi. 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 Speriamo che a me rimaniamo tutti fatti. Eh? C'è mamma. Signorina? Sì? Oh mamma mia. Buonasera? Buonasera. Chi è il primo? A me è un gnocco alla Sorrentina. Questo è il spaghetto da povero, se è possibile. Dai, chi mi sei come il primo? A me vanno, a me scogliogliaccio a me. Mamma mia. Andiamo, carte dai. Mamma mia. Non c'ho di un becchio. Ufff. No, puoi stavano a me che sei? Ammè, ti a posto dai. 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 E io ho una bella vaglione. Una cosa. Bella. Ma non so fare niente. E adesso è meglio la vaglione. La vaglione a tu. La vaglione a tu. A letto è meglio che questa. Ufff. 5.08. Non mi arriva, Gabriella. Tu sei tu che sei, paniello fratto. Eh? 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 Oh, allora che fai? Eh? Che fai? E mi hai dato la cittura, fello. E scendiamola come hai la vaglione a tu. Hit me with the horse! Hit me with the horse! Hit me with the horse!